Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisi in apertura parliamo del campionato di Serie D domenica inizierà la stagione ufficiale per il Campobasso e il Termoli nel turno preliminare della Coppa Italia Matese e Vasto Girardi entreranno in scena dal prossimo weekend Nel tardo pomeriggio di ieri è partita la prevendita dei biglietti destinata ai tifosi del Campobasso per il derby di domenica. In un primo momento non è stata resa nota la disponibilità per i tifosi giallorossi poi nella tarda mattinata è giunta l'ufficialità dei 200 tagliandi per il settore ospiti partita che certamente provoca la curiosità di molti appassionati Campobassani la nuova creatura plasmata da De Filippi sed'affidata a Mosconi ha un volto praticamente del tutto nuovo rispetto a quella di qualche mese fa il DS ha provato ad alzare la cosiddetta asticella la società lo ha fatto a livello di collaborazioni. Adesso lo sforzo si sposterà sul campo il giudice supremo. Nel pomeriggio di ieri allenamenti a Selva Piana i quali ha assistito anche un gruppo di tifosi. La società Rosso Blu ringrazia chi ha deciso di accordare fiducia tramite gli abbonamenti sottoscritti ad oggi poco oltre 600 ma chiede pure uno sforzo maggiore. Il mercato condotto da De Filippis rimane costantemente attivo. Sono prossimi all'accordo altri due calciatori il centrocampista classe 2004 Mattia Tarcinale che arriverà in prestito dall'Avellino e lo scorso anno ha giocato in serie dico la maglia del Molfetta inoltre è prossimo all'accordo l'esterno brasiliano classe 2003 Ghierme Lara Delegado la società non ha mai chiuso il mercato dei fuori quota sempre sotto esame è probabile che a giorni ci siano anche dei movimenti in uscita l'ultimo in ordine di tempo quello di Lombari che potrebbe trovare un accordo con il Venafro sarà il Termoli di Alessio Martino a misurare le prime ambizioni rosso-blu una squadra molto rinnovata quella adriatica che punta a salvarsi con meno sofferenze rispetto all'anno scorso esposito fra le punte di Diamante ma anche Hernandez e Ventos promettono bene Vitiello attaccante che conosce la categoria ed il girone gara secca fra Campobasso e Termoli a Selvapiana poi altro step il 3 settembre con il primo turno di Coppa il tutto in attesa del campionato ma soprattutto della redazione e pubblicazione di gironi e calendari di quarta serie mai così in ritardo come quest'anno le indiscrezioni confermano le molisiane all'interno del girone F un classico delle ultime stagioni quest'anno ci potrebbe essere l'inserimento anche di un paio di emiliane a definire il girone questo secondo le ultime voci di stampa la FIGC ha voluto attendere la pronuncia del Consiglio di Stato sull'estromissione della regina dalla serie B che dovrebbe essere confermata una volta per tutte il 29 prossimo l'FC Matese di mister Corrado Urbano ieri ha disputato un amichevole contro il Benevento Primavera terminata 2 a 2 questo test ha fornito buone indicazioni al tecnico in vista della prima di Coppa Italia che sarà domenica 3 settembre contro i campani del Real Casalnuovo il manto erboso di Selvapiana rappresenta il fiore all'occhiello della società non avendo nulla da invidiare davvero agli stati di categorie superiori a prendersene cura ormai da anni Goffredo Di Orio il nostro amico che davvero ha rimesso a nuovo il terreno di gioco dello stadio del capoluogo di Regione Goffredo si gioca domenica in che condizioni è il campo diciamo che siamo quasi all'80% perché questo caldo non ci aiuta però allo stesso tempo abbiamo come puoi vedere dalle immagini abbiamo portato io e Cristian il campo in maniera penso accettabile tu di campi ne hai visti che ne dici te la faccio io una domanda a te infatti dimmi una domanda retorica perché il campo è in ottime condizioni tu manchi il 20% questo 20% che cos'è? il 20% è che mi si finisce di involtire e ci sono dei punti dove mi ha attaccato purtroppo la stagione è stata troppo calda e ci sono le infezioni del prato che sono andato a combattere con i fungicida e lì ci mette un po' più tempo a germogliare però ci siamo costa poi stare qui quante ore al giorno questo lavoro? per me non è un costo non è un lavoro questo si fa per passione poi sì c'è anche la retribuzione ci mancherebbe però sul campo ci deve venire tutti i giorni perché ogni giorno trovi qualcosa di differente se c'è una piccola percezione che puoi vedere un batterio che mi ha attaccato l'erba deve andare a intervenire in maniera capillare se no poi è troppo tardi e la squadra ovviamente non lo deve calpestare no magari lo deve calpestare in settimana no no con il mister ci siamo messi d'accordo quando c'è la possibilità come come non ci deve venire devono prendere le misure devono incominciare a capire dove si trovano pure i ragazzi perché questo comunque è uno stadio importante e ci siamo messi d'accordo il mister sembra molto preposto pure lui a preservarlo domenica arriva il termo lì insomma subito derby poi c'è una sana rivalità fra le due tifoserie sana sottolineiamo sì una sana rivalità speriamo che sia una giornata di sport come sempre sono frasi fatte però non ci auguriamo questo e con la speranza che vince comunque il campo basso e poi da molto tempo non si interveniva sul perimetro esterno gli alberi le varie puliture bisognerà pulire il fossato che pure necessita di interventi abbastanza urgenti insomma è uno stadio che necessita una manovalanza quasi H24 sì però siamo riusciti a strappare qualche promessa agli assessori io sono un chiodo su queste cose qua mi sono messi a telefono però c'è da dire che si sono messi a disposizione e a breve faremo anche l'intervento di bonifica del fossato ma meno male il Termoli sta preparando la sfida di Coppa Italia obiettivo è quello di stupire e impressionare dalla prima uscita ufficiale abbiamo fatto il punto con uno dei riconfermati della scorsa stagione l'argentino Scoppa Federico Scoppa centrocampista argentino ti ho detto prima sono contento che sia rimasto perché hai fatto un finale stagione veramente incredibile e credo che ci sia anche il tuo marchio nella permanenza nella salvezza del termolicalcio si riparte con qualcosa di nuovo di diverso con una squadra sicuramente più all'altezza della situazione per poter far bella figura in questo campionato di Serie D sì prima di tutto grazie mille anche io sono molto contento di rimanere qua e poi sì abbiamo iniziato prima di tutto con una base c'è 5-6 giocatori che siamo stati insieme il campionato scorso e niente avevamo fatto un buon ritiro ma adesso inizia l'importante diciamo al di là del ritiro che avevamo fatto degli amichevoli che sono andati bene adesso bisogna dimostrare in campionato quello che avevamo fatto e ovviamente si deve migliorare partita dopo partita quando sei arrivato l'anno scorso sei arrivato in punta di piedi con una grossa esperienza alle spalle sia all'estero sia in Italia perché hai giocato anche in Serie B però hai creduto nel progetto soprattutto hai creduto nella salvezza quello diciamo che ti ha fatto sicuramente onore sì sì ormai ho fatto 36 anni sono quasi 20 anni che gioco nel professionismo e niente grazie a Dio è andata bene ognuno ha fatto il suo non è che perché siamo arrivati noi dopo cioè è merito nostro cioè è stato merito di tutti perché fino alla fine avevamo ci avevamo creduto e poi avevamo lavorato come si deve lavorare cioè seriamente senza dare colpa agli altri quello è fondamentale perché se ci mettiamo in quel in quel cerchio che diamo la colpa agli altri cioè non si esce più invece noi abbiamo lavorato al 100% fino alla fine e alla fine come dico abbiamo ottenuto il risultato in andato si parte c'era una stagione domenica la prima di Coppa Italia sei pronto insieme alla squadra sì sì siamo pronti siamo pronti ovviamente dobbiamo essere pronti quando fischia l'arbitro è il momento che bisogna essere pronto ma abbiamo fatto come ho detto un buon ritiro e speriamo bene per la squadra per la società per noi e speriamo fare una buona Coppa Italia una buona partita domenica e un buon campionato per il calcio regionale alla vigilia della nuova stagione sportiva Liserni ha raggiunto un accordo biennale con la Lazio per un'affiliazione che riguarderà tutte le categorie e porterà notevoli benefici alla società del presidente Traisci diverse le iniziative previste dall'accordo che saranno sviluppate durante la stagione la società PENTRA ha ringraziato il presidente della Lazio Claudio Lotito per aver sostenuto in prima persona il raggiungimento dell'accordo questo weekend inizierà la stagione ufficiale anche per le compagini d'eccellenza e promozione con la prima giornata della competizione tricolore sabato in anticipo sono sei le partite in programma per il calcio giocato parte domani la Coppa Italia con sei anticipi nel girone B al chiusa di Rocca la Vindola si sfidano i blucerchiati di Milano e l'Olimpia agnonese con direzione di gara affidata al signor Simonelli di Isernia nel girone C il San Pietro in Valle neopromosso in eccellenza farà visita al Real Prata arbitro del confronto De Lucia di Isernia nel gruppo D partirà dall'Abruzzo la stagione dell'Aesernia di mister Fabio Di Rienzo che affronterà il Castel di Sangro per Mingione e compagni una partita importante utile a verificare lo stato di forma del gruppo dopo la preparazione i padroni di casa abruzzesi vogliono iniziare con il piede giusto la nuova avventura arbitriere il confronto Maselli della sezione di Isernia si giocano entrambe domani le gare del Gironè il Baranello sfiderà in casa il difesa Grande Termoli in un match che segna l'esordio di Lorenzo Biglione sulla panchina dei locali e rappresenta per i giallorossi il primo passo verso la nuova avventura in eccellenza direzione di gara affidata al signor di Domenico di Isernia a Boiano invece i biancorossi di Gianni Rubberto ospitano il Torre Maggiore i matesini vogliono partire con il piede giusto e regalarsi la prima gioia stagionale guai però sottovalutare i pugliesi che giocheranno a testa alta per provare a mettere in difficoltà gli avversari arbitro del match il signor Colella di Termoli infine nel girone F la cliternina al Madonna Grande attende il Trivento per i biancorossi pronti a togliersi delle belle soddisfazioni in eccellenza la sfida rappresenta un test probante i gialloblu non partono battuti fischietto designato per il confronto quello del signor Cinali di Termoli tutte le gare sono in programma alle ore 16 eccezione fatta per quella di Boiano che prenderà il via alle 16.30 dopo domani si completerà il quadro della prima giornata con la disputa delle restanti 10 partite il Ripalimosani ha rinforzato la squadra con acquisti di categoria per affrontare la nuova stagione in eccellenza Antonino Mancini dunque confermato al Ripalimosani è una bella gioia ripartire in particolare per te rivivere anche queste sensazioni di un campionato d'eccellenza si sicuramente è stato uno di quei motivi che mi ha spinto innanzitutto come dire a continuare un altro anno perché ormai siamo arrivati in quella fase in cui ogni anno è l'ultimo però poi ci si lascia coinvolgere e convincere dal progetto sicuramente fare un campionato di eccellenza probabilmente diciamo l'ultimo è sicuramente un motivo che mi ha spinto a continuare e soprattutto farlo qui dove come dire ce la siamo conquistata siamo partiti io sono partito qui personalmente quattro anni fa e ogni anno ci siamo tolti delle piccole soddisfazioni quindi mi fa piacere diciamo farlo con loro assolutamente insomma sai bene come funziona qui lo so bene anche io insomma l'importante è dare tutto farsi rispettare poi è una società un paese che davvero ti dà il cuore ti dà tutto sì questo è assolutamente assolutamente vero lo vivono con molta passione con molto impegno la vengono al campo ma anche i ragazzi ci seguono l'anno scorso insomma c'è stato un bel seguito anche durante le partite finali quindi fa piacere che anche lo stesso diciamo paese torni a vivere a respirare il profumo dell'eccellenza dopo tanti anni ecco appunto dopo tanti anni ricordiamo l'esperienza insieme magari a Lupi Molinaro e oggi è completamente diverso perché non ci sono più quelle cifre non ci sono più quelle possibilità economiche quindi va costruito un gruppo e su questo sono sicuro che Ripa comunque è un passo avanti sì non girano i nomi di una volta è inevitabile che come dire il campionato si sia livellato verso il basso proprio sulla scorta di quella esperienza di Lupi Molinaro lì il gruppo fece la differenza io penso che anche qui si è costruito un bellissimo gruppo negli ultimi anni appunto i risultati che abbiamo raggiunto playoff e poi promozione in eccellenza è dipeso non solo come dire dalla bravura dei giocatori che sono arrivati qui ma anche proprio dalla forza del gruppo noi ci siamo compattati ci sono stati degli episodi chiave l'anno scorso in cui ci siamo compattati io penso che lì poi è stato fatto diciamo il passaggio per arrivare alla promozione in eccellenza il neopromosso nel campionato d'eccellenza Termoli 2016 è pronto a fare il suo esordio in Coppa Italia domani a Baranello Alex Capozzi ben ritrovato ritorni a casa perché già nel 2016 c'eri stato due anni credo difesa grande 2016 da quest'anno un'esperienza per te anche un po' diversa in questa nuova stagione sì sì torno dove ero stato già due anni fa poi per via del covid per tante vicissitudini ci siamo divisi ma dopo due anni ci siamo ci siamo riabbracciati sì dai è un'esperienza leggermente diversa dagli ultimi anni gli ultimi anni l'avevo fatta da protagonista in campo no che quest'anno non lo faccio però mi è stato chiesto di fare da preparatore portiere di far crescere il giovanotto Paolo Orecchia senti tu anche tu alle spalle insieme a Paolo Orecchia è un'esperienza incredibile tu la sei fatta in piazze importanti anche lui tra l'altro tu l'hai fatta a Agropoli a Cavani a Novi Liguri insomma hai girato l'Italia la piccola esperienza di Chievo questa esperienza servirà a questi ragazzi che sono Orecchia e Orlando sicuramente per mettere in vetrina una difesa una porta che dovrà essere quasi insuperabile sì sicuramente l'esperienza fa tanto aiuta ma bisogna comunque aggiornarsi perché rispetto a tanti anni fa il calcio comunque è sempre in evoluzione sì l'obiettivo è farli crescere comunque hanno delle buone qualità ma dobbiamo forgiarli sul lato caratteriale è lì che uscirà uscire il portiere speriamo che Paolo quest'anno veramente possa rilanciarsi anche perché viene da un'annata un po' particolare quindi il mio obiettivo sarà farlo tornare in quei palcoscenici Guido del Torto preparatore atletico del GSD difesa grande Termoli 2016 per te una conferma perché l'anno scorso eri già arrivato però ti porti anche alle spalle la lunga esperienza calcistica partita da Campobasso poi fatto Termoli tante altre squadre del Basso Molise adesso a servizio di questa squadra che è una squadra giovane una squadra tutta del territorio ma soprattutto Termolese sì sì assolutamente dopo comunque il buon lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso sempre con il mister abbiamo deciso comunque di intraprendere questo nuovo percorso e di sfruttare nuove metodiche di allenamento che soprattutto qui diciamo in Molise non si usano quindi visto i risultati dell'anno scorso li cerchiamo di riproporre migliorandoli ovviamente e vediamo che frutti daranno quindi siamo anche aspettando questo I frutti sono arrivati perché la vittoria del campionato del campionato di promozione in corsa tra l'altro perché è una squadra che è partita a Disney ma poi è arrivata alla grande nel finale di stagione assolutamente sì ed era come avevamo programmato sia sotto l'aspetto fisico come ovviamente anche poi sull'aspetto tecnico-tattico era una squadra nuova mister nuovo quindi ci voleva del tempo per prendere le proprie idee poi invece è andato tutto come avevamo previsto e siamo contenti e fieri di questa cosa senti siete uno staff tecnico giovanissimo sì tu Iovannelli e Ricci siete giovanissimi a cent'anni non ce ne avevate tutti e tre messe insieme assolutamente sì è stato proprio questo lo spirito che d'innovazione è stata proprio questa idea che comunque anche a me ha fatto venire voglia di mettermi in gioco stessa cosa per il mister quando parlammo ha detto voglio mettere qualcosa di nuovo non voglio fare le solite cose e quindi è una soddisfazione per me ma anche per loro e cerchiamo di fare lo stesso anche quest'anno Tennis sono definitivamente chiuse le iscrizioni per il torneo Open di Isernia il parterre della seconda settimana di gare è dunque ufficiale è salito a 11 il numero dei top players che entreranno in azione tra martedì e mercoledì prossimi un record per il piccolo club molisano si stanno svolgendo intanto le partite relative al secondo tabellone quello riservato agli atleti di serie D basket femminile di serie A1 lunedì è iniziata ufficialmente la preparazione della Magnolia Campobasso un roster di giocatrici rinnovato con l'arrivo di 4 new entry altrettante sono state le riconferme tra queste la giovanissima Chignonez Blanca Chignonez allora sei arrivata qui che avevi 12 anni sì esattamente no 13 13 ci siamo conosciuti però subito 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 prima intervista delle Molise senti è passato qualche anno hai mantenuto tutte le promesse pochi anni per te sono passati ancora troppo pochi anni però insomma hai mantenuto tutte le promesse essere una ormai dei punti fermi di questa squadra beh sì ci sono riuscita perché lavorandoci tutti i giorni credendoci su ogni obiettivo ci sono riusciti e ci siamo riusciti anche come squadra a mantenere le promesse che abbiamo l'impegno e l'obiettivo che abbiamo individualmente come squadra sì però insomma tu poi potresti lo diceva anche l'allenatore Mimmo Sabatelli ambire sicuramente a campionati anche più più importanti di questo no? Si spera sicuramente però vedremo ok e l'anno scorso com'è andata? Tirando un bilancio alla fine del campionato sicuramente durante la stagione sia Serie A che il giovanino è andata alla grande ho avuto un po' di periodi in cui sono stata un po' ferma però alla fine con l'anno 17 abbiamo vinto è andata alla grande direi certamente a livello invece di prima squadra un po' altalenante diciamo però comunque da tutto si impara quindi diciamo che è andata bene comunque sei giovanissima però uno diciamo delle più anziane sotto il profilo proprio della della militanza questo campionato che sta per iniziare visti gli acquisti le ragazze che sono arrivate non c'è più qualcuna quindi questo come andrà secondo te? Beh si spera bene e vedremo vedremo come procede questa stagione ci auguriamo il meglio e niente senti ti trovi bene è inutile che trovi si sono rimasta qua quindi hai imparato anche qualche parola sicuramente bene hai imparato anche qualche parola di dialetto sì a me abito con brindicini napoletane un po' di tutto un po' di tutto e giocherai l'anno scorso tra l'altro a Telemolisi nel cuore ho scoperto che avevi giocato anche con la squadra le convittia quindi fai proprio faccio un po' di tutto sì ormai ci serve un aiuto a Telemolisi potete chiamare sì sicuro va bene intanto ti devo fare i complimenti per il tuo italiano e soprattutto per questa per questa voglia che c'hai di rimanere di giocare di fare bene sì grazie mi trovo bene quindi per questo sto ancora qua mi fanno crescere soprattutto imparo sempre nuove cose Volley di Serie B continua la preparazione precampionato per l'Energy Time Spike Devils mister Mariano Maniscalco ha organizzato il lavoro alternando sessioni tattiche e sedute in palestra il team nel frattempo sta già definendo il calendario delle amichevoli tra queste già confermate tre quelle già confermate tra cui una doppia con il Marigliano Girone H della Serie B con andata nel capologo di Regione il 15 settembre e ritorno in Campania cinque giorni dopo il 27 poi in previsione una sfida con il Napoli di A3 per il futsal il Cus Molise inizierà la preparazione lunedì 28 agosto obiettivo è quello di farsi trovare pronti per la prima storica partecipazione al torneo di Serie A2 Elite in Serie B lo Sporting Campobasso si ritroverà gli ordini di Cocce Pietrunti e del suo staff il 4 settembre ultima settimana di riposo per CLN Cus Molise e Sporting Campobasso in vista della prossima stagione le due società dopo i preparativi al nuovo torneo sono pronte per dare ufficialmente il via ad una nuova annata di futsal da lunedì via la preparazione atletica per il Cus Molise poco più di un mese prima del via al torneo di A2 Elite che partirà sabato 30 settembre la società Cusina ha organizzato tutto nel dettaglio a partire dalle amichevoli che vedranno i ragazzi di San Ginario impegnati in tre occasioni contro avversari di assoluto livello il nuovissimo torneo di A2 Elite secondo gli addetti ai lavori sarà livellato verso l'alto servirà un Cus Molise già pronto sin dalle prime battute di campionato per questo motivo lo staff ha deciso di organizzare amichevoli di lusso prima il 9 settembre contro il Manfredonia a seguire il 16 con la corazzata Napoli Futsal protagonista assoluta del torneo di A1 infine il giorno 23 sempre di settembre contro la Tombesi Ortona una marcia di avvicinamento che servirà per favorire l'inserimento dei nuovi arrivi e valutare eventualmente se intervenire sul calciomercato in merito all'orario di gioco dei match casalinghi dovrebbe esserci una piccola modifica le gare al Palavunimol si giocheranno sempre di sabato con calcio d'inizio alle 17.30 e non più alle 16 come da tantissime stagioni ad oggi test atletici la settimana prossima a seguire il via la preparazione anche per lo sporting campobasso la società rosso-blu avrà qualche giorno di tempo in più per prepararsi al torneo cadetto considerato che la prima giornata si giocherà sabato 14 ottobre anche la società guidata da mister Pietrunti ha messo a punto un trist di gare amichevoli nel mese di settembre gli avversari saranno il Canosa il Cus Foggia e la Polisportiva Boiano in un triangolare e infine il Manfredonia la stagione si preannuncia impegnativa la società e lo staff hanno creduto fortemente nel gruppo che ha conquistato la Serie B sul campo una responsabilità e una sfida sono queste le parole chiave per il prossimo futuro dello sporting campobasso in questi giorni si sta provvedendo anche all'allestimento della compagine Juniores che parteciperà al campionato nazionale Under 19 con i ragazzi nati dal 2005 al 2008 ricordiamo oggi dalle 18 alle 20 e 30 al circolo sannitico di Campobasso si terrà l'evento intimamente profondamente Campobassano un evento organizzato da Vittorio Mancini per ricordare Bartolomeo Terzano nel bicentenario della sua nascita durante l'evento verrà inaugurata una mostra fotografica documentaria a cura di Vincenzo e Vittorio Mancini bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio